Il Good News Festival, come nasce questo appuntamento e come si arriva a questa serata del 30 maggio? Beh, innanzitutto saluto Don Andrea Brugnoli, visto che ci si conosce da vecchia data, noi siamo tutti un po' della stessa zona d'Italia. Questa serata del 30 maggio è una finale di un evento musicale che per la Diocesi di Roma è un po' una novità. A Roma arrivano un po' tantissimi a cantare perché ci sono tante possibilità, eventi a livello cristiano. Abbiamo pensato con la Diocesi e la cosa è partita da vari punti diversi e si è trovata insieme, diciamo, che forse era il caso di vedere cosa c'era, quale realtà musicale cristiana ci fosse a Roma. Allora abbiamo lanciato quest'idea e i risultati sono stati interessanti. Ma l'idea quando l'avete lanciata? L'idea l'abbiamo lanciata, ci siamo incontrati al convegno diocesano di inizio anno per la pastorale giovanile e alcune persone hanno esposto idee molto simili e poi abbiamo cominciato a parlare. L'idea è stata lanciata da novembre in poi. Ecco, il servizio della pastorale giovanile, il servizio diocesano, sono state coinvolte le parrocchie o quali altri canali avete usato per arrivare a coinvolgere gli interpreti e quanti ragazzi sono stati coinvolti? Perché qui parliamo di finale, quella di dopodomani. I canali sono essenzialmente i contatti del servizio per la pastorale giovanile che nel tempo sta mettendo insieme sia a livello informatico di poste elettroniche sia poi a quello parrocchiale normale, insomma tutta una serie di contatti diretti con le persone. Quindi c'è stato un volantinaggio ma soprattutto c'è stato un notevole passaparola che ha coinvolto più di 30 autori, più di 30 autori, di cui 14 saranno i finalisti ma li abbiamo ascoltati tutti a 30, abbiamo creato una semifinale dove abbiamo dato la possibilità a ognuno di esibirsi e di far sentire il suo pezzo e poi abbiamo scelto. E con le canzoni che verranno presentate dopo domani sera hanno seguito, cioè la serata ha un tema, questo appuntamento ha un tema o ognuno ha presentato un brano che fa parte del proprio repertorio? La forza del nostro tentativo che vuole essere inclusivo e non esclusivo, cioè dare la possibilità anche a un giovane che in qualche maniera scoprisse quasi per caso insomma che c'è un evento del genere è quella di aver fatto un festival a tema, quest'anno il tema è la speranza e quindi tutti sono stati invitati a scrivere una canzone originale lasciandosi ispirare da questo tema. Che attesa c'è per questa serata? Beh intanto c'è l'attesa che ci sia bel tempo perché è all'aperto e quindi questo sarebbe la cosa molto bella. Ricordiamo anche dove si tiene perché non l'abbiamo detto. Si tiene nella parrocchia Santa Madre del Redentore a Torbella Monaca a Roma, in Diocesi di Roma. Le attese, oltre al bel tempo. Le attese in parte sono state già premiate da tutta questa gente che si è affacciata e si è messa in contatto perché non soltanto con gli organizzatori ma anche poi nasce un contatto trasversale. La mia più grande attesa è quella che tutto questo faccia nascere la possibilità di confrontarsi e di creare un'occasione di crescita per chi fa musica cristiana perché come sappiamo molto spesso poi basta un attimo e ci si attiene al proprio piccolo pubblico parrocchiale e non si cresce mai insomma. Quindi l'attesa è che ci sia una crescita. Per questo motivo cerchiamo di avere una band di professionisti, cerchiamo di fare il DVD della serata fatto con una certa cura, tutta una serie di cose che vadano verso una qualità senza perdere la possibilità di incontrarsi sul serio e di confrontarsi tra fratelli. Ecco, è una serata finale quindi ci sarà anche un vincitore. Chi è che giudicherà le canzoni? Le canzoni verranno giudicate da buona parte delle persone che hanno intrapreso questa avventura che sono quasi tutti cantautori cristiani con già un po' di esperienza alle spalle e che volevano fare in modo che questa esperienza fosse anche condivisa. Quindi avremo Fabio Cingolani di Latina che ha cantato anche una parte dell'inno dell'Emmanuel, avremo May Vini che è una consacrata irlandese dalla voce meravigliosa e tante altre persone. Un appuntamento, il primo appuntamento avrà un seguito questa serata, ci sarà una seconda edizione? Penso proprio di sì, ce lo auguriamo tutti. Penso che sarà anche più affollata e che quindi ci sarà da organizzare bene anche delle semifinali e dei momenti di incontro e spero che non ci sia soltanto il lato del festival ma ci siano anche dei momenti di convivenza e di incontro reale. Allora Don Raffaele ricordiamo orario e luogo dove si tiene questa serata del Good News Festival. Sabato 30 maggio, ore 21, nella parrocchia di Torbella Monaca, Santa Maria Madre del Redentore. Bene, allora io ringrazio Don Raffaele per quanto ci ha raccontato, per quanto ci ha ricordato e vi auguriamo veramente che sia una serata d'incontro al di là di chi vince o chi non vince ma proprio mettere insieme anche questa passione per la musica che può diventare un buon collante per i giovani per stare insieme. Grazie. Grazie Don Raffaele, dobbiamo fare il cambio veloce dell'ospite. Come dicevamo, una delle protagoniste di questa serata sarà Erika Provinzano che veloce veloce, quatta quatta, zitta zitta, entra in studio. Ciao, buonasera, benvenuta. Allora Erika, a te chiediamo come hai deciso di partecipare a questa serata. È stata una decisione in realtà un po' sofferta perché mi era arrivato l'invito a partecipare al festival durante la realizzazione dello spettacolo che sta passando. E quindi in realtà mi sono anche tirata indietro perché ho detto una canzone sulla speranza non ce l'ho. Ne ho una sulla speranza ma dura tipo sei minuti, il limite era quattro minuti quindi ho detto forse non è il caso che partecipo. Invece poi al secondo sollecito forse che il Padre Eterno mi stava facendo per avviarmi in questa strada, è stato quasi due mesi dopo, quindi intorno a dicembre, mi sono resa conto che davanti alle mie resistenze, insomma, non posso partecipare non a una canzone eccetera, io ero seduta al pianoforte e avevo già il ritornello della canzone che poi avrei portato. Quindi in realtà la strada era già aperta, dovevo solamente intraprenderla. Questa è una delle cose che più mi affascina di... E come arrivi a questa serata di dopo domani in sera, a questa finale? Quali sono le tue attese, cosa porti con te? Comunque hai detto bene, no? A volte il Signore ci aspetta, magari ci lascia passare anche due mesi, poi comunque ci recupera nel farci una proposta come questa di cui stiamo parlando. Non male, perché se si fermasse al primo no qui tutte le porte si chiuderebbero. Dico, quali sono le tue attese per questa serata? Le mie attese... Io vivo le cose come se fossero un seme, nel senso che poi in realtà non si può mai sapere che albero nascerà. Dell'esperienza che ho avuto dalla mia conversione con il Signore, perlomeno nella mia vita, ma nella vita di tutti funziona così, quando Lui ti dice di gettare un seme, l'incanto poi c'è dopo, per lì è un gesto naturale, scopri dopo cosa cresce. Stanno nascendo tante cose già da questa mia adesione a questo festival e la strada che io personalmente voglio intraprendere è quella dell'evangelizzazione e quindi questo è solamente l'inizio di un percorso, sicuramente. Ecco, ci vuoi dire una parola, visto che la nostra regia sta proponendo in questo momento appunto le immagini di questo... Cos'è? È uno spettacolo teatrale e musicale di Francesca Satta Flores. E di che cosa parla? Lo spettacolo si chiama Più che le sentinelle è l'aurora e è difficile dire di cosa parla perché è il percorso in un certo senso della... il pre-conversione, non è il percorso della conversione di qualcuno, è tutti i modi con cui Dio ti chiama in un certo senso, ripercorso attraverso le esperienze dei personaggi biblici, quindi della Maddalena che in questo spettacolo viene posta sotto inchiesta da una persona particolarmente scettica e in realtà riprende molto i temi che poi si affrontano quotidianamente, perlomeno adesso non so voi i sacerdoti, noi laici, che comunque percorriamo strade molto varie, diciamo, nei luoghi di lavoro, eccetera, siamo continuamente sottoposti a domande molto... anche molto cagnesche, no? Dove Dio? Cosa fa? Ma allora perché? Varie cose. In realtà quindi è una rappresentazione teatrale, dal punto di vista drammaturgico, di questa situazione. Le canzoni sono mie e di Angelo Van Arcadie e sono una sorta di lente di ingrandimento su alcuni temi in particolare e sono vari all'interno dello spettacolo. Ecco, alle 16 dobbiamo chiudere, quindi vedi che ore sono, allora ti dico una cosa, spettacolo musicale, partecipazione al Good News Festival e poi progetti per il futuro? Semi. E poi vediamo cosa cresce. Bene, sei stata bravissima, grazie a Erika per quanto ci ha raccontato. Ricordiamo anche con Erika l'appuntamento di Dopodomani Sera, questo Good News Festival che si tiene presso la parrocchia di... Santa Maria Madre del Redentore a Torbella Monaca. A partire dalle ore... 21. E vi aspettiamo tutti ad essere presenti a questa serata. Grazie a tutti.